In inglese, no, Reader è un poesia, il Reader, il Reader si chiama, in poesia, giusto? In inglese. Ebbene, entra Reader, è l'anagramma di Andrea Ferreira. E qual è l'anagramma di Franco Costantini? Con frasi d'incanto. L'anagramma di Franco Costantini è un poesia, ma è un poesia, è un poesia, non è un poesia. E' un poesia, è un poesia. E' un poesia. E' un poesia. Grazie a tutti.